Musica Politiche e gli effetti su Giunta Il Consiglio regionale centrodestra ha schierato in prima linea due assessori regionali e tre consiglieri regionali, tra l'altro capigruppo, oltre a tre segretari di partito. Il voto potrebbe scompaginare e ridisegnare gli attuali equilibri. Per Occhiuto, una sfida delicata. Diciamo no al patto cubano. Gli esponenti cosentini del Partito Democratico, contrari al piano del governatore Occhiuto per il segretario e candidato alle politiche Vittorio Pecoraro, l'accordo espone le strutture a paesi terzi. Scadono i contratti. La politica se ne occupi. Nuova protesta dei tirocinanti calabresi nei pressi della rotonda di località Passo Vecchio, sulla strada statale 106 a Crotone. La richiesta ai partiti si esprimano in maniera chiara in vista del voto. Intimidazione alla guilla, scalea nella notte, ignoti hanno vandalizzato l'ingresso della sede territoriale del sindacato per il segretario regionale Santo Biondo e un oltraggio ai valori democratici e di libertà del nostro paese. Allontaniamo i sentimenti di odio e vendetta. Rende l'amministrazione comunale in titola un tratto di strada che costegge il parco acquatico a Francesco Augeri, il 23enne studente cosentino ucciso il 22 agosto del 2018 a Diamante dopo una rissa. Nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alla politica e presumibilmente sarà così molti giorni durante le settimane che ci separano dal cruciale appuntamento del 25 settembre prossimo. Iniziamo con il primo servizio dedicato ai possibili effetti sulla giunta regionale e sul consiglio regionale. Effetti determinati dalle candidature che in caso di elezione potrebbero modificare tanto la composizione della giunta quanto quella del consiglio. Sentiamo. Il deposito delle liste elettorali ha avviato con il crisma dell'ufficialità il percorso che porterà alle elezioni della 25 settembre. In Calabria la competizione si presenta come una sorta di vero e proprio stress test anche per la regione Calabria. A dirlo sono i fatti e le candidature. Due assessori regionali e tre consiglieri regionali e tra l'altro tutti e tre capigruppo, oltre a tre segretari di partito, sono in corsa per uno scranno al Parlamento. In Lizza per Forza Italia il coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, il capogruppo a Palazzo Campanella Giovanni Arruzzolo ed il capogruppo di Forza Azzurri Giacomo Crinò. Per Fratelli d'Italia la coordinatrice regionale Vandaferro e l'assessore regionale al turismo Fausto Orso Marso. Nella Lega il commissario regionale Giacomo Saccomanno, l'assessore regionale al welfare Tilde Minasi e la capogruppo regionale Simona Loizzo. Dopo il 25 settembre ai piani alti della cittadella regionale di Palazzo Campanella potrebbero esserci scossoni di non poco conto. A partire dalla Giunta, che il presidente Roberto Chiuto verosimilmente dovrà ritoccare. È molto probabile, infatti, per le posizioni in lista, l'elezione di Orso Marso e della Minasi. Occorrerà tenere conto dei nuovi rapporti di forza che potrebbero determinarsi con il voto delle politiche, un voto che sarà anche un derby a tre fra i principali partiti della coalizione che guidano la regione. Per questo il presidente Occhiuto in queste elezioni gioca una partita delicatissima sotto diversi aspetti. Anche il consiglio regionale sarà verosimilmente ridisegnato. In caso di elezione dei consiglieri candidati potrebbero subentrare in Forza Italia Domenico Giannetta, in Forza Azzurri Pierpaolo Zavattieri, in Fratelli d'Italia Sabrina Mannarino, nella Lega Pietro Molinaro. E stiamo sempre sui temi politici e regionali perché ha fatto prepotentemente ingresso nella campagna elettorale il tema dei medici cubani, cioè la scelta del presidente Occhiuto di sottoscrivere una convenzione che consentirà l'arrivo in Calabria di professionisti provenienti appunto da Cuba. Stamane il presidente della regione, Roberto Occhiuto, ha rivendicato con forza la scelta sottolineando come si tratti di una opzione che non priva del lavoro i medici italiani e calabresi. Insomma, una scelta di emergenza. Ma sentiamolo. Continueremo a fare i concorsi per i medici italiani e per i medici calabresi. Quindi questi medici cubani non ruberanno un solo posto di lavoro a medici calabresi o italiani, ma salveranno qualche vita. È una soluzione di emergenza per una sanità al collasso. I concorsi che stiamo facendo in Calabria vanno deserti, ancora di più dei concorsi che si fanno nelle altre regioni, perché il sistema sanitario calabrese, distrutto da 12 anni di commissariamento, è un sistema sanitario poco attrattivo. E come dicevo poco fa, questo tema è entrato nella discussione nella campagna elettorale calabrese. E di diverso avviso, rispetto alle considerazioni e alle scelte del Presidente Occhiuto, il Partito Democratico che ieri a Cosenza ha sottolineato come si tratti di una scelta profondamente sbagliata. Sentiamo. Il patto della discordia. Non si spengono le polemiche sulla decisione del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, di stringere un accordo per l'arrivo di circa 500 medici cubani in Calabria. E se il governatore, anche oggi, nell'ennesima intervista rilasciata, difende la scelta e aggiunge motivazioni ritenute valide a sostegno del progetto necessario a rimpolpare gli organici degli ospedali calabresi. Dall'altra parte c'è chi come il PD non manda giù la proposta e respinge con forza il piano del governatore. A Cosenza i dem su input del consigliere comunale Giuseppe Ciacco si sono riuniti dando vita ad un dibattito a più voci, tutte decisamente contrarie al patto cubano. Voglio dirlo con franchezza. L'idea dei medici cubani, insomma, la fantasia non ha limiti ma ci sembra una risposta inadeguata. In primis perché conferma una risposta precaria, una dimensione di precariato addirittura internazionale per la sanità calabrese che al contrario ha bisogno di investimenti e stabilità. In secondis perché ci mette nelle mani di un paese che non è un nostro partner internazionale, non fa parte dell'Alleanza Atlantica, abbiamo già visto con l'esempio della Russia durante il periodo del Covid, che esporre le proprie infrastrutture, anche quelle sanitarie, a paesi terzi ha comunque delle conseguenze importanti, soprattutto in una stagione come questa di grande tensione internazionale. Si è detto nella relazione prima che questo patto costerebbe all'incirca 200 milioni di euro alla Regione Calabria e quindi significa sventrare un altro ente. Non è bastato il Comune di Cosenza, adesso anche la Regione Calabria. Io, ripeto, ovviamente non ho nulla con i medici cubani, rispetto il lavoro di chiunque, però questo patto è anche una mortificazione per i nostri medici. Continuiamo ad occuparci di elezioni politiche ed in particolare di candidature, nello specifico quelle del Partito Democratico. Liste depositate, candidature definite, ascoltiamo l'opinione espressa da Enza Bruno Bossio, deputata uscente, e da Carlo Guccione, responsabile per il mezzogiorno dei temi sanitari del Partito Democratico. Sentiamo. La mia opinione è che Nico Stumpo, come altri candidati non del PD, nelle liste plurinominale, quindi fondamentalmente articolo 1, fanno parte di un accordo nazionale. Rispetto a questo accordo nazionale, chiaramente, nessuno di noi può dire niente. Io sono comunque orgogliosa, al di là di come andrà il risultato, che mi auguro naturalmente vada bene, sono comunque orgogliosa di essere stata scelta, soprattutto dal territorio e dal Partito Calabrese. La cosa che mi ha stupito è che io, qualche mese fa, sono stato chiamato a Roma dal segretario nazionale del Partito Democratico e mi è stato detto che dovevo fare un'altra esperienza. a questa riunione c'erano autorevoli esponenti del Partito Nazionale e anche del Governo. Io non ho chiesto nulla, mi sono stato chiamato. Non mi sono candidato per questo motivo alle regionali, però questo impegno non è stato mantenuto. Ma ci sarà modo di chiarire queste cose dopo le elezioni. Oggi si fa la campagna elettorale e mi sono candidato. Come costume non farò mancare il mio impegno, perché bisogna cercare di dare una prospettiva a questo Paese che le destre, così come sono, non garantiscono. Ancora sulla politica ci occupiamo ora di Fratelli d'Italia. Come sapete il Partito della Meloni ha indicato come capilista due calabresi, l'assessore regionale Fausto Orsomarso e la coordinatrice regionale deputato scente Vandaferro. Ma ha anche scelto di schierare nelle liste dirigenti territoriali, come è accaduto per il collegio senatoriale Nord Calabria con Ernesto Rapani. Ieri assemblea di Fratelli d'Italia, Corigliano Rossano. Se la doppia candidatura di Vandaferro al proporzionale nel collegio uninominale della provincia di Catanzaro ha certificato, come ha sottolineato la stessa Ferro, la scelta di premiare l'impegno parlamentare territoriale, altri elementi, sottolineano da Fratelli d'Italia, raccontano l'impostazione di Giorgia Meloni. La candidatura dell'assessore regionale Fausto Orsomarso ed ancora di più quella per il collegio senatoriale Nord di Ernesto Rapani, dirigente meloniano della Prima Ora e già coordinatore regionale del partito. A Corigliano Rossano, Fratelli d'Italia non ha perso tempo e riunendo dirigenti e militanti ha espresso soddisfazione per il riconoscimento. Beh sì, effettivamente devo ringraziare in prima persona Giorgia Meloni perché ha riconosciuto e ha premiato il lavoro che ho fatto negli anni. Naturalmente non ha dimenticato che ho aderito a Fratelli d'Italia nel 2013 quando c'era tanto scetticismo nei confronti di questo partito, addirittura venivamo definiti quattro gatti. Beh, quattro gatti oggi sono diventati molto di più e ci fa piacere proprio che chi ci definiva quattro gatti sia ricreduto e in qualche modo sia anche avvicinato a Fratelli d'Italia. Un riconoscimento che, tiene a sottolineare il neocandidato, va anche ad un'area strategica della provincia di Cosenza e della regione. Un grande riconoscimento ritengo lo ha dato anche al territorio. Corigliano Rossano, la prima città della provincia di Cosenza, la terza città della Calabria, che ha un dirigente nazionale, naturalmente il sottoscritto, che è stato tenuto in considerazione ed è stato candidato. Ora ci tocca lavorare perché non basta la candidatura, ma il nostro obiettivo è quello di vincere perché vogliamo, vogliamo naturalmente andare a rappresentare l'intero territorio, abbattersi per questo territorio e portare quei risultati che da tanto tempo purtroppo non arrivano. Ancora sulle candidature sulle liste, candidata per il centro-sinistra nel collegio uninominale per la Camera, Vibo Valencia, Piana di Gioia Tauro, l'uscente sottosegretario al Sud, Dalila Nesci, ha richiamato la necessità della rottura delle scorse settimane con il Movimento 5 Stelle, ribadendo la convinzione rispetto ad un risultato positivo da parte di impegno civico. la formazione fondata dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sentiamo. L'impegno civico con Di Maio è candidato nella coalizione di centro-sinistra, noi vogliamo lavorare per dare continuità al metodo Draghi, al governo Draghi, quindi anche in Calabria siamo presenti e invito tutte le persone che sono rimaste anche molto turbate dalla sfiducia al Presidente Draghi e dalla inaffidabilità e irresponsabilità delle altre forze di sostenere impegno civico con Di Maio, me e tutta la coalizione di centro-sinistra. Una rottura necessaria visto l'ipocrisia, il doppio pesismo del partito di Conte perché ormai il Movimento 5 Stelle non esiste più, tant'è vero che io e oltre 60 parlamentari siamo andati con Di Maio rompendo con le ambiguità di Conte sulla politica estera che poi sono culminate nella sfiducia e quindi a far cadere il governo Draghi insieme a Berlusconi, Salvini e Meloni. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla politica e dai temi regionali, passiamo alla cronaca perché i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in collaborazione con il reparto operativo aeronavale di Vibo Valenza hanno scoperto a Reggio Calabria una piantagione di cannabis occultata da altirovi e irrigata da un impianto a goccia. La piantagione era composta da 57 piante. Nei giorni scorsi le fiamme gialle a seguito di appostamenti avevano individuato un ultra sessantenne regino che è stato fermato all'alba intento a chiudere il rubinetto dell'impianto di irrigazione. Stamane il segretario regionale della Guil Santo Biondo sul proprio profilo Facebook ha reso noto pubblicando le foto un atto di intimidazione nei confronti della sede territoriale della Guil in quel di Scalea vandalizzato l'ingresso della sede. Naturalmente è stata ferma la condanna del segretario Biondo. Sentiamolo. Questa notte la nostra sede di Scalea che è il luogo di incontro, di confronto dove vengono erogati servizi ai cittadini è stata presa di mira da incidivi. Un fatto gravissimo che è al vaglio degli inquirenti. Da diversi mesi il sindacato è sotto attacco, da movimenti estremisti. Questo è frutto del clima d'odio che si respira nel paese rispetto al quale tutti siamo chiamati a lavorare a una sua ricomposizione. Quando si attaccano le sedi del sindacato si offendono, si oltraggiano i valori democratici e di libertà su cui si fonda il convivere civile nel nostro paese. Noi che crediamo nel confronto, nel dialogo, condanniamo ogni atto di inciviltà, ogni atto di violenza fisica e verbale. E stamane, a proposito di temi sindacali, c'è stata una nuova protesta dei tirocinanti calabresi. Questa volta sono scesi lungo la strada statale 106 in località Passo Vecchio a Crotone. Nuova mobilitazione dei tirocinanti calabresi dalle prime ore della mattina in località Schirripa a Crotone, coloro i quali prestano servizio presso gli enti della costa ionica crotonese e cosentina e della fascia silana e presilana sono tornati per strada a protestare. Il prossimo novembre, infatti, spiegano i manifestanti, scadranno i tirocini di inclusione sociale e governo e amministrazione regionale non hanno ancora individuato alcuna soluzione. La politica tace sottovalutando l'impatto sociale della questione che interessa migliaia di famiglie calabresi. Questi 30 giorni saranno fuori dal circuito lavorativo. Nei radar della regione e del governo non esistono più questi lavoratori, quindi noi abbiamo timore che questa gente diventeranno i prossimi nostri disoccupati. Ecco perché vogliamo mettere l'attenzione della politica, anche perché oggi si litigano tutti quanti sulla politica, sul lavoro. Il problema è che il lavoro manca e questi tirocinanti domani saranno fuori dal circuito lavorativo. I tirocinanti che non hanno più diritti, che tra qualche giorno comincerà a scadere il loro progetto, si ritroveranno in mezzo alla strada. È una regione che dorme, si preoccupa di altro e i tirocinanti inesistenti. Bisogna da qua tutta la campagna elettorale di qualunque corrente politica sarà invasta dai tirocinanti, dove cercheranno di far rispettare i loro diritti e la loro dignità. Stiamo parlando di famiglie che è monoreddito, dove c'è poco da fare, o adesso o mai più. Andiamo a Rende, ora dove l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare un tratto di strada che costeggia il parco acquatico a Francesco Augeri. Lo ricorderete, si tratta dello studente 23enne ucciso il 22 agosto 2018 a Diamante in seguito ad una rissa. Allontaniamo i sentimenti di odio e di vendetta. Questo il messaggio emerso. Gli occhi persi tra la folla sperando di incrociare anche solo per un secondo lo sguardo di un figlio che non c'è più. Dario Augeri vive insieme a sua moglie da quattro anni senza il figlio Francesco ucciso il 22 agosto del 2018 a Diamante. Lo studente cosentino di 23 anni morto dopo una rissa, qualche parola di troppo, poi qualcuno tira fuori un coltello ed una serie di difendenti colpiscono il giovane inutili. I tentativi di soccorso. A distanza di quattro anni, nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Francesco Augeri, l'amministrazione comunale di Rende ha deciso di intitolargli il tratto di strada che costeggia il parco acquatico. Quello che ci mantiene in piedi insieme alla fede, questo nostro desiderio è di commemorare Francesco in chiave positiva, dando a tutti un messaggio di pace, di dialogo, di tolleranza, di non violenza. Questo è il nostro programma di vita, è il nostro messaggio fondamentale. Numerosi rendesi accorsi tra la folla, amici e conoscenti, ma anche tante famiglie visibilmente commosse e segnate dal dolore per la morte innocente di un giovane che aveva ancora troppi sogni da realizzare. La mortale e brutale aggressione subita da Francesco Augeri ricorda la violenza inaudita con cui è stato pestato e ridotto in fin di vita Davide Ferrerio, giovane emiliano aggredito giovedì 11 agosto a Crotone e che ieri ha fatto ritorno a Bologna. Dario Augeri ha voluto mandare un messaggio alla famiglia di Davide. Un messaggio di solidarietà e di vicinanza. Nessuno di noi può capire il dolore che si provi in situazioni del genere. Certo dobbiamo essere forti, dobbiamo convidare nell'aiuto di Dio, però non dobbiamo lasciarci prendere dalla disperazione e dal senso di vendetta. Anche io ho pensato subito alle similitudini tra le storie di violenza subite dai due giovani, dice ai nostri microfoni il sindaco di Rende, Marcello Manna. Ho avuto anch'io lo stesso passaggio mentale, lo stesso accostamento. Bisogna su questi argomenti essere molto vigili, essere presenti, dare segnali importanti contro l'incultura, contro la violenza. È evidente che dobbiamo mettere in campo tante e tante azioni. Letteratura, cronaca e memoria a San Mango d'Aquino per il premio Muricello dai testimoni delle stragi ai migliori scrittori calabresi nella decima edizione della manifestazione conclusa con pieno successo. Unire letteratura e memoria, cultura ed attualità per quella rivoluzione della quale la Calabria ha bisogno da tempo. Il presidente dell'associazione Muricello, Antonio Chieffallo, sintetizza così la decima edizione del premio Muricello che si è tenuta in questi giorni a San Mango d'Aquino con la direzione artistica di Ugo Floro. Ad aprire la manifestazione il premio letterario al suo debutto che ha visto trionfare Elena Giorgiana Mirabelli con Maizo, scatole parlanti editori. Elena Giorgiana Mirabelli con il suo libro Maizo che ha suscitato un grandissimo interesse nella giuria soprattutto per la capacità di descrivere mondi fantastici nel suo percorso narrativo. Maizo è la storia della fuga di tre ragazzini da una casa di correzione e punizione morale. questi ragazzini si trovano lì perché potrebbero sbagliare, perché sono poveri o perché hanno disagi cognitivi ed è la storia di una fuga verso il desiderio perché devono raggiungere un casolare dove si tiene una cerimonia. La cerimonia permetterebbe a questi ragazzini di riazzuffare realmente se stessi. La seconda serata è stata invece dedicata al trentennale delle stragi con testimoni dell'epoca e professionisti che con il loro lavoro hanno contribuito a riflettere ed aprire nuovi squarci su casi sui quali ancora molto resta da dire. Fra i premiati, Angelo Corbo, uno dei sopravvissuti all'agguato di Capaci in cui perse la vita, Giovanni Falcone. Adesso andare incontro ai ragazzi e parlare di legalità nelle scuole o nei incontri pubblici è un modo per dire, trovare una giustificazione alla mia esistenza in vita, sperando che qualcuno di questi ragazzi con cui io parlo possa veramente capire come vivere nella legalità sia qualcosa di positivo e non di negativo. E' tutto, grazie per la cortese attenzione e buona serata. Grazie per la visione!